Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Radio Giorgio innanzitutto scusate per la lunga assenza ma con impegni scolastici non potevo assolutamente dedicarmi al canale purtroppo con la grandissima quantità di compiti mi è stato impossibile veramente ma non vi preoccupate che con l'estate ritornerò a fare molti video oggi volevo farvi vedere come cambiare il colore e in generale le icone alle cartelle del nostro Mac quindi le cartelle e anche file perché questa operazione è valida anche con i file e i programmi del nostro OSX cominciamo col dire subito che per cambiare icone a una cartella normale non è necessario nessun tipo di permesso però per cambiare icone a cartelle come per esempio quelle delle applicazioni come vedete sono riuscito a cambiarla ci vuole un permesso molto particolare in OSX El Capitan se avete aggiornato è stata introdotta la cosiddetta SIP ovvero protezione integrità di sistema è una specie di blocco che non ci permette di fare tutte le operazioni possibili e immaginabili quindi prima di procedere con il cambiamento delle icone e quindi per avere tutto sbloccato riavviamo il nostro Mac in recovery mode e disattiviamo questa SIP quindi ragazzi eccoci qui per riavviare il nostro Mac facciamo mela riavvia io l'ho in inglese ma comunque a linea di massimo è la stessa cosa mi raccomando di tenere premuto command più r a riavvio quindi quando lo riavviamo anzi ecco teniamo command più r in questo modo impiegherà molto più tempo ad accendersi perché appunto prepara tutti i file necessari per la recovery intanto metto pausa ci rivediamo quando finisce di avviarsi perfetto ragazzi una volta aggiunti in questa utility OSX andiamo su utility terminale aspettiamo che si apra e scriviamo CSRutil Disable premiamo invio e quindi ci spunterà la protezione integrità di sistema disattivata correttamente dopodichè mela e riavviamo normalmente perfetto ragazzi eccoci ritrovati sul desktop allora abbiamo disattivato la SIP e quindi possiamo procedere con il cambiamento delle icone di qualsiasi cartella in descrizione vi metterò il link di DeviantArt che è un sito di diciamo progettazione grafica per sfondi per computer eccetera eccetera di due pacchetti uno contenente la versione ICNS che sarebbe diciamo il formato icona e png di alcune icone modificate semplicemente cambiando il colore come potete vedere i colori sono modificati ma niente di più e un altro in cui invece ci sono due cartelle main colors con varie icone di sistemi modificate ad esempio applications oppure desktop, comics, documents e quant'altro e invece extras in cui ci sono altre icone aggiuntive per cambiare icona a una cartella normale prendiamo ad esempio la cartella desktop intanto apriamo o questa o l'altra cartella insomma questo non cambia scegliamo un colore ad esempio scelgo verde quindi apriamo verde dopodiché facciamo edit o modifica nel caso dell'italiano copia possiamo anche chiudere premiamo command più i per visualizzare le informazioni di questa cartella e clicchiamo una volta sola su questa icona dopodiché facciamo command più v e come vedrete si cambierà molto semplicemente l'icona per cambiare invece le icone alle cartelle di sistema quindi ad esempio macintosh, library, applications eccetera eccetera dopo aver disabilitato la zip possiamo farlo anche manualmente però ci viene in aiuto questo programma light icon che praticamente ci permette di modificare molto più semplicemente le icone per esempio library trasciniamo semplicemente l'icona qui detto questo facciamo apply changes inseriamo la nostra password e premiamo clear cache and logout io non lo premo perché altrimenti si riavvia il finder e anche la doc comunque in questo modo abbiamo modificato anche le cartelle possiamo fare anche manualmente come vi ho fatto vedere poco fa nel caso della cartella desktop perfetto ragazzi per oggi è tutto continuatemi a seguire sul canale di radio georgio tech da oggi è anche attivo il canale di radio georgio tech su telegram e quindi iscrivetevi in tanti per rimanere aggiornati sia sui miei nuovi video sia su qualche notizia tecnologica qualche news qualche promozione su amazon insomma qualsiasi cosa che trovo che vi potrebbe interessare un saluto a tutti da radio georgio grazie a tutti